Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Mysterium Kids, il tesoro di Capitan Boo, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io, come sempre, ringrazio immensamente di cuore per la copia fornita, ed è un gioco assolutamente veloce per tutte le famiglie, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Mysterium Kids, edizione italiana a cura di Asmod Italia, in questa versione prettamente per non tanto i più giovani, ma per le famiglie, è un gioco veramente molto veloce, che ci riporta un po' nell'ambientazione gotica, dark, horror, anche un po' Tim Burton, se vogliamo, però un pochino più scansonata rispetto alla controparte normale Mysterium, che se vi ricordate ho già portato sul canale, e addirittura sono uscite anche delle varianti stand alone, come Mysterium Park, che tra l'altro vi consiglio veramente di cuore. Il regolamento è molto facile. A turno uno dei giocatori dovrà essere il fantasma, dovrà interpretare il fantasma di Capitan Boo, dove avrà un tamburello. Il gioco ci fornisce un tamburello, tra l'altro molto carino, dove potremo fare qualsiasi tipo di suono, quindi picchiarci sopra, passarci la mano, sgraffiarlo, dei suoni che dovranno andare a rappresentare una delle cinque carte che saranno disposte sul tavolo e di cui soltanto il fantasma saprà qual è la carta scelta tramite un token. Quindi magari gira un token a casa e vede che il token è uno, sarà la carta 1 in alto, che magari in quel caso potrebbe essere un gatto. Sulla carta. Quindi lui col tamburello e nessuno può parlare, o meglio, i giocatori, gli investigatori, sì, fra di loro. Però il fantasma non potrà dire nulla, a parte Boo, quando avrà finito di fare il suono. I giocatori dovranno tutti quanti chiudere gli occhi e lui battendo sul tamburello, oppure sgraffiando. Uno potrebbe dire, ma sta sgraffiando, potrebbe avere degli artigli, delle unghie, cos'è, un gatto, un felino, qualcosa del genere. E quindi magari la carta è la numero 1. I giocatori tutti insieme, tramite questo suono che ha fatto Capitan Boo, dovranno capire qual è la carta sul tavolo. Se indovinano, gireranno una delle carte tesoro. Se avranno indovinato, si terranno il tesoro. Alcuni tesori hanno bisogno di due carte, perché sono spezzati, che ne sono scettro d'oro, magari alla parte alta e alla parte bassa delle impugnature, devono essere uniti per fare un tesoro. Alla fine della partita non c'è, si vince, si perde, c'è soltanto un punteggio. Quando si arriva in fondo alla partita, si guardano semplicemente i tesori che abbiamo preso, si va a fare tramite il regolamento, che sono tre pagine praticamente, il conto dei punti fatti, e che ha fatto più punti. Non tanto ha vinto, perché è un gioco cooperativo tutti insieme, però magari vi sprona la prossima volta a cercare di fare meglio, anche perché ogni volta che viene indovinata una carta, il tavolo viene ripulito e ne vengono messe di nuove. Quindi non si va per esclusione alla fin fine, ma si cerca sempre di improvvisare dalla parte del fantasma Capitan Boo per i suoni, e dall'altra parte cercare di avere una coesione di gruppo per investigare e trovare appunto qual è la carta giusta da assegnare sul tavolo. Si vince sempre, ma quello che conta è fare i più punti possibile. In conclusione, un gioco per tutte le famiglie, quindi assolutamente da mettere a tutti i tavoli, anche dopo 20 minuti dura, dopo una cena la domenica o un pranzo di Natale. Per tutti, qui non è che c'è ragazzino, adulto, questo è davvero un gioco divertente per tutti. Ringrazio di cuore, come sempre, grazie immensamente a Asmo d'Italia, per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, Mysterium Kids, non è in lista, oppure è finito, pallino rosso, scrivete una mail al supporto, a Corrado, al proprietario della Gioco Libreria Semola, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Quindi gli mandate una mail, un messaggio privato per farglielo presente al supporto. Lui, che il gioco sia finito, o che il gioco sia fuori catalogo, farà il possibile per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, e per spese superiori ai 79€, corriere e spese postali gratuite in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia e isole comprese. L'ordinati, gratis, senza spese postali, vi arriva a casa in 48 ore, e usate sempre il mio codice discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti. Quindi, non soltanto sui giochi, ma su tutti gli acquisti del catalogo della Gioco Libreria Semola. Molto importante, servizio impeccabile, e ancora una volta, grazie, grazie, grazie di cuore, ad Asmod Italia, per la copia fornita. Un gioco per tutti, e vi divertirà. Ne sono convinto. Ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima! Ora puoi riprendere, un'altra volta sto video. Non so come mai me l'ha tolto. Magari ce l'ho nel computer, ma me l'ha salvato da un'altra parte. Quanto scommetti? Vai!